Sergio Silva, esordio vincente del tuo Follonica, ti aspettavi una partita del genere? Sì, molto combattuta, maschia, senza colpi proibiti, penso che non l'ho visti, due squadre forti, perché l'Odio è una squadra forte, penso che lo siamo anche noi, è equilibrata, alla fine l'abbiamo vinta noi, il sacrificio dei ragazzi è stato enorme, abbiamo saputo soffrire nel periodo che eravamo un po' sotto con le gambe e loro ci hanno messo un po' in difficoltà, altre volte non è successo questo, perché altre volte forse anche giocando meglio il risultato non era questo, oggi ci teniamo tre punti, ma anche le cose buone che abbiamo fatto, che penso che abbiamo fatto tante cose buone. Cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione? Sostanzialmente la squadra è la stessa, un Buralli in più, un Maldini in più, un Cancela in meno, ma il gioco è sempre propositivo? Sì, il nostro modo di giocare è sempre quello, cerchiamo di migliorarci sempre, aggiungere sempre qualcosa nelle due fasi delle partite, fasi difensive e fasi d'attacco, cercheremo di inserire i nuovi il primo possibile, perché possono dare ancora un contributo più elevato, perché oggi si è visto anche nella rotazione, averne 5, averne 6, ad averne 7 o 8 cambia tanto. Sono ragazzi giovani, la maggior parte si danno da fare, lavorano, e sicuramente il loro arriverà a quel tempo sicuramente.